Prima gara sulla panchina per mister Renica, un punto contro la Pergolettese, un bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, come si può vedere questa partita? Tanti minuti, un'ora con un uomo in più, si poteva fare qualcosa di più o una squadra buona come il Pergo va bene anche un pari? Beh, per come è andata la partita direi che va bene anche il pari, sicuramente magari i ragazzi, io personalmente forse ho cercato di mettere troppe cose e non sono state assimilate soprattutto nella fase di un processo pala dove eravamo un po' lunghetti nei rapparti, lasciavamo troppi spazi, abbiamo preso un sacco di ripartenze e dobbiamo crescere. Io sono appena all'inizio della bacchetta magica, non ce l'ho, ho preso in carico la squadra da martedì, ho bisogno di tempo, però va bene il punto, intanto muoviamo la classifica e fa morale. Iniziate la partita molto bene con determinazione e grinta in parità numerica, forse è finita un po' la benzina nel secondo tempo anche in superiorità numerica? Una questione psicologica? Secondo me abbiamo avuto un problema sia fisico che tattico, perché? Fisico perché non corravamo tanto, quindi eravamo anche dopo sulle palle e loro arrivavamo prima di noi. Tattico perché a volte eravamo troppo presuntosi nell'attaccare con tempi sbagliati e quindi lasciavamo poi il fianco scoperto a dei contropiedi proprio perché eravamo in troppi là e eravamo anche imprecisi nei passaggi, quindi sbagliando il passaggio beccavamo quasi sempre repertenza ed eravamo messi malissimo. Succederà qualcosa a dicembre quando si riaprirà il mercato? Ma questo lo dovete chiedere alla società, io credo che noi dobbiamo costruire una squadra perché qualcuno non giocava nel suo ruolo per caratteristiche, perché eravamo un po' scoperti in certi ruoli, quindi abbiamo messo qualcuno adattato, qualcosa dobbiamo mettere come caratteristiche in questa squadra per avere giusti equilibri, un modulo che magari è il 4-4-2, che potrebbe andare bene per questa squadra, però si ha bisogno di caratteristiche di un certo tipo in certi ruoli.